nello specifico io credo che l'obiettivo non sia tanto la russia ma putin stesso è stato anche ampiamente detto e scritto no che si spera anche di convincere dei russi sperabilmente quelli che sono comunque intorno al cremlino nel cammino stesso ad accettare l'idea che putin è ormai un leader in presentabile no sin qualunque consesso internazionale poi tu dicevi la narrazione è vero o questa è la narrazione che che viene che viene dispiegata ormai da decenni e non è il caso di rievocare però è anche una narrazione che non è come dire al di là dei casi milosevic eccetera non è gratis non è priva di conseguenze anche negative per l'occidente e per diciamo per per gli scopi occidentali e mi spiego meglio è stato come dire imputato e poi processato e condannato milosevic ora viene ricercato vladimir putin non è stato fatto assolutamente nulla zero la corte penale internazionale dell'aia si è addormentata rispetto ai casi di george bush e tony blair che hanno invaso l'iraq con motivazioni come ben sappiamo inesistenti false dichiarando il falso al mondo dichiarando il falso all'onu e provocando direttamente la morte di centinaia di migliaia di civili ora queste non sono cose in occidente è facile dire che siamo i buoni e che ci battiamo contro i tirani ma queste cose queste come dire questo sdegno a comando no che ci sdegniamo per le dittature che non ci piacciono più o che non ci fanno più comodo e ignoriamo completamente le azioni nefaste dei nostri leader svilisce queste istituzioni come la corte penale internazionale dell'aia e soprattutto le svilisce agli occhi di chi non è interno al sistema occidentale per cui e vengo i giorni nostri quando ci domandiamo come mai tanti paesi e non abbiano aderito alle sanzioni contro la russia come mai la cina la turchia il sud africa il brasile tanti altri paesi continuino ad avere relazioni diciamo non dico amichevoli ma comunque non ostili con la russia ecco facciamoci delle domande e pensiamo a tutti questi casi pensiamo al fatto che milosevic è stato condannato dalla corte penale dell'aia george bush e tony blair che hanno provocato una guerra non sicuramente non meno nefasta di quelle provocate da milosevic nei balcani sono assolutamente stati ignorati e anzi fanno conferenze collaborano spiegano come si debba fare la politica eccetera eccetera questa è indubbiamente la trasparente speranza che una delle speranze che ci sono dietro questo questa iniziativa della corte penale dell'aia io temo che sia una speranza vana in questo senso la politica russa funziona con altri parametri cioè l'idea che ci possa essere un colpo di stato chiamiamolo così in russia ai danni di putin perché putin è inseguito da questo mandato di cattura della corte penale internazionale dell'aia secondo me è una speranza che non sta in piedi non voglio dire che putin potrebbe non essere sostituito mai ma certamente non per questo anzi è possibile che questo questo questa imputazione della corte penale dell'aia lo rafforzi all'interno della russia perché nella nella mentalità russa c'è questo questa idea più diamo ai russi la sensazione di in qualche modo tra virgolette perseguitarli anche se noi non pensiamo affatto di farlo pensiamo di fare un'opera di giustizia e più i russi si tendono a stringersi intorno al loro leader vorrei ricordare una cosa citarsi è sempre una una brutta abitudine però nel 2015 o a dire anzi nel 2014 quando la russia rioccupò la crimea e cominciò tutta la la crisi del donbass e questo avvenne se non se non vado rato a marzo in maggio per la celebrazione della vittoria sul nazismo nessun leader europeo andò a mosca e io scrissi un articolo dicendo questa è un questo è un errore colossale colossale perché questa dai russi non viene interpretato come una condanna del cremlino ma viene come interpretato come un atto di disprezzo nei confronti del paese e la russia è un paese che la seconda guerra mondiale la chiama grande guerra patriottica e dove non c'è famiglia non c'è una famiglia russa che non abbia avuto un parente caduto in quella guerra e molto spesso più di uno quindi quell'atto non venne vissuto dai russi questa questo rifiuto di andare a mosca a celebrare la vittoria sul nazismo non venne vissuto dai russi come una condanna ai danni di putin ma come un gesto spregiativo nei confronti del popolo intero questo mandato della corte penale internazionale rischia di avere lo stesso effetto sicuramente hanno un forte effetto positivo a favore entro il nostro mondo no cioè contribuiscono a convincerci che noi siamo i buoni e che abbiamo di fronte un mare di cattivi che è il nostro dovere oltre che il nostro diritto combattere è il resto del mondo che non ci crede più palesemente non ci crede più e quindi si regola di conseguenza come si diceva il gran numero di paesi anche molto importanti che non hanno aderito le sanzioni contro la russia dimostra che c'è una grossa perdita di trazione da parte da parte da parte dell'occidente rispetto a certi temi rispetto a questa narrazione molto valoriale che poi nei fatti corrisponde in realtà ad interessi molto materiali e molto molto meno nobili di quanto ci piaccia pensare quindi certamente la spaccatura la spaccatura del mondo si si acuisce si si allarga la frattura tra il mondo occidentale e il resto del mondo vorrei anche dire una cosa che il mondo occidentale sta subendo esso stesso a suo volto una trasformazione a questa luce lo ricorderete che nel 2003 quando partì proprio tutta l'operazione irachena si opposero eh Francia e Germania alla all'invasione dell'Iraq e Francia e Germania subirono un pesante ostracismo da parte degli Stati Uniti e ovviamente poi del blocco che eh la coalition of the willing si chiamava allora no la coalizione dei dei volonterosi questa volta è toccato la Germania cioè il paese disallineato in qualche modo nei rapporti con la Russia era la Germania e guardiamo che cosa è successo la Germania in questa crisi cioè eh quello che voglio dire è che questa esigenza di mostrare un occidente compatto intorno a certi valori eccetera 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 eh narrazione a cui appunto mezzo mondo non non crede assolutamente più eh implica anche che l'Occidente vive in una specie di eh stato permanente di emergenza dove il 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 dissenso le posizioni autonome dei paesi di fatto eh non sussistono più guardiamo quello che succede adesso in Europa la Germania è stata annichilita ma è stata annichilita da noi non dalla Russia eh il gasdotto saltato eccetera 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 la questione dei carri armati cioè la Germania ormai ha dovuto allinearsi dentro questo blocco eh dopo che le sono stati inflitti dei danni sistemici eh notevolissimi. Nella Francia altro paese che aveva una posizione diciamo di di fedeltà alla linea eh pro ucraina ma anche di autonomia di pensiero Macron l'ha detto più volte dobbiamo mantenere una linea di contatto con la Russia eccetera eccetera è stata ridotta il silenzio Macron non parla più non eh anche in in questa occasione non si sono sentiti commenti francesi eccetera quindi eh è una questione anche come dire abbastanza spinosa all'interno dell'Occidente non solo eh è una questione anche come dire abbastanza spinosa all'interno dell'Occidente non solo nei rapporti dell'Occidente con il resto del mondo.